Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono il vostro Montoneir, grazie a tutti degli auguri che mi avete fatto lunedì, anche su Instagram, in privato, eccetera, tra l'altro nella descrizione del video trovate tutti i social dove potete seguirmi, Twitch, Instagram, eccetera, e grazie ancora degli auguri e dell'affetto, l'ultimo video è andato bene, se sentite dei versi strani, è il mio solito cane che evidentemente quando io giro i video lui si diverte a fare del casino, è un modello Tasmania, è un quarto d'ora che speravo smettesse ma continua a fare del casino, adesso sembra che si sia calmato, ma ha capito che sto parlando di lei, allora ragazzi, prima o poi riuscivo a fare un video anche con lei, veniamo a noi, veniamo a noi, allora, allora, Lazio e Inter sul velluto, due partite che secondo me erano già scritte prima di cominciare, io, ragazzi, quanto durano questi due qua? Io ve lo chiedo se ci sono tra voi tifosi del genere della serenità, tra l'altro iscrivetevi, attivate la campanellina, commentate, mettete mi piace, mi raccomando, perché ho notato che più del 70% delle persone che guardano il mio video non sono iscritte al canale, non vi costa nulla, vi iscrivete, attivate la campanellina, mi fate piacere, è gratuito e ho sempre piacere di rispondere a tutti i vostri commenti, detto questo, quanto durano Shevchenko e Colantuono su queste due panchine? Colantuono probabilmente, vista la situazione che c'è a Salerno e tanto affetto e tanta stima per i tifosi della salernitana, purtroppo la vedo male e quindi non lo so, probabilmente col fatto che non c'è una proprietà, non ci sono dei soldi, non si capisce più un tubo, probabilmente Colantuono riesce a resistere solo per quel motivo lì, perché altrimenti secondo me l'avrebbero già segato via. Io la metto, la vedo così, la vedo così, perché non è che Colantuono stia facendo chissà cosa rispetto a Castori, anzi tutt'altro. Detto questo, stesso discorso vale per Shevchenko, che ragazzi, io il Genoa l'ho visto giocare due o tre volte, se tira una volta o due in porta è tanto, però quelle una o due volte che tira in porta fa gol, quindi non capisco perché debbano giocare così tutte chiuse dietro, per carità giocare con la Lazio e con l'Inter, ma cioè anche la salernitana stessa catenaccio a bomba anche su 2-0, 3-0, oh dai, cioè. Comunque veniamo a noi, allora appunto vi dicevo, questa Lazio che vince 3-1 con Pedro sugli scudi, Luiz Alberto che partendo dalla panchina fa due assist, come a dire Sarri io ci sono, vedi tu, e Zaccagni ragazzi, questo Zaccagni che è una specie di nuovo acquisto della Lazio, perché da quando si è ripreso dagli infortuni e sfighe varie e Sarri ha iniziato a vederlo, Zaccagni non ha mai deluso, cioè gol, assist, prestazioni veramente, veramente della madonna, ecco come si suol dire. E appunto per contro una grande Lazio che va a Serena, vince 3-1 e ha contro un Genoa che non gioca, fa uno o due tiri in porta in tutti i 90 minuti, quindi andate a vedervi le statistiche di tutte le partite del Genoa da quando c'è Sefcenco, quanti tiri in porta avrà dato da quando c'è Sefcenco, cioè penso che non superano i 10 sommate tutte le partite, io non lo so quanto abbiano fatto bene a mandare via Sefcenco, ok sono di Ravenna, non è che stravedo per Ballardini, però giocava un po' meglio Ballardini, secondo me. Poi ragazzi staremo a vedere, ecco questa, questo qua a cui forse il panettone ci arrivano tutti e due, sia Sefcenco che con l'Antuono, ripeto con l'Antuono per altri motivi, però io fossi nelle proprietà ci penserei seriamente di tenere questi due, perché di sto passo qui è proprio più piombo che piombo, cioè si va giù a dritti proprio. Va bene, per carità non era oggi la partita che doveva vincere il Genoa, ma non vai neanche a non tirare in porta, cioè. Comunque arriviamo invece a parlare dell'Inter, un Inter che ragazzi, un Inter ahimè che proprio oggi è ufficiale, la recessione di contratto di Eriksen, mi dispiace, mi dispiace tantissimo per questo ragazzo che io già stimavo e adoravo in Premier League, un ottimo calciatore con una sfiga grossa, che però speriamo che possa giocare in altri campionati e ritornare a fare quello che più gli piace, comunque rescissione, romagnolo, rescissione ufficiale con l'Inter oggi, dispiace, dispiace perché la Serie A perde un altro campione e speriamo per lui appunto che possa tornare a giocare in Danimarca, in Inghilterra o dove può giocare col bypass sotto cutaneo, che ha tanti auguri a Eriksen, stesso discorso a pianto il cuore l'altro giorno, a vedere la dia di Aghero in lacrime, Aghero che ragazzi era veramente, veramente fortissimo, però purtroppo quando ci si mette di mezzo queste cose qui ha fatto bene Aghero, è meglio la salute e chissà che magari non possa diventare un buon allenatore in futuro, glielo auguriamo, ripeto scusate i rumori, è il cane, detto questo appunto un Inter, un Inter che ragazzi un Inter, cosa vi devo dire? Non pensavo, non pensavo, non stasera, stasera pensavo ne facesse anche 18, vista la squadra messa giù da Colantuono e ripeto per me tanti dei problemi della Salernitana sono l'allenatore, non dico il 90% ma un buon 70% sicuramente e il resto è la proprietà che non so, a gennaio non comprerà nessuno perché visto che la proprietà c'è e non c'è, sempre se gli danno la proroga alla Serie A, striscioni dei Salernitani su Gravina, risposta degli interisti di solidarietà ai tifosi salernitani, bello, bello, bel gesto, complimenti, io stesso sono vicino alla Salernitana, il calcio dei tifosi, ai tifosi salernitani non alla Salernitana e purtroppo non gliene frega più cassa a nessuno dei tifosi, a quanto pare, dispiace, dispiace perché comunque Salerno è una piazza veramente, veramente bella, calda, con una curva molto focosa, molto, veramente molto bella, peccato, peccato, speriamo si risolva al meglio ma ahimè, lo scenario non è dei migliori, staremo a vedere, staremo a vedere, staremo a vedere come andrà a finire, comunque, punto, questa Inter che ragazzi, cioè, può mettere in campo chi vuole e mi devo ricredere su Inzaghi ragazzi, io non pensavo mai e poi mai che Inzaghi riuscisse subito il primo anno a fare una roba del genere, perché ragazzi questa Inter qui è stratosferica, non vedo squadre a ora che possano impenserire questa Inter, chiunque dietro non è all'altezza, non c'è proprio paragone, cioè, gioca bene, un Cialanoglu che è qualcosa di, che continua così, non lo so, non dico che vince il pallone d'oro, ma porca puttana, gole e assist a manetta, i milanisti staranno là dando delle cappocciate contro il muro come degli ossessanati, e ha ritrovato anche Alexis Sanchez, ha ritrovato anche Dumfries, che appunto approfitta del fatto che Darmian sia fuori squadra per infortunio, non lo so ragazzi, non lo so, poi dopo vengono anche i gol di Lautaro Martinez che entra solo nella ripresa, e anche il gol di Gagliardini all'ottantasettesimo per finire la goleada 0-5, ragazzi questa Inter fa paura, questa Inter per me se continua così non ha proprio, non c'è competizione, complimenti, complimenti perché davvero Inzaghi non me lo aspettavo che facesse così tanti miracoli, e complimenti anche a Marotta e compagnia, bella perché comunque sì, avendo venduto Lukaku e Kimi, ha comunque rinforzato la squadra con anche delle seconde linee, perché anche Perisic è una seconda linea, ma sti cazzi di seconda linea, averne dei Perisic, cioè che comunque ragazzi giocano bene tutti, tutti, ha quasi due squadre l'Inter, cosa che le altre squadre purtroppo non hanno, quindi non lo so, non lo so, è una prova di fuga dell'Inter, vedremo, vedremo domani la mia Atalanta cosa farà con la Roma, finisco col dirvi del caos in Premier League che c'è una riunione d'emergenza per decidere se ci sarà lo stop del campionato o no, perché continuano comunque dei gran rinvii, causa Covid, causa giocatori, Focolai, casini vari, e comunque sì, ripeto appunto lunedì c'è questa riunione che deciderà il da farsi, perché stanno rinviando troppe partite, il Tottenham ad esempio non ne gioca da tre, ricordiamo anche ridicolamente, non lo so, come si dice, il ridicolo che è successo comunque, che non ha giocato la partita in Conference League con Renne, l'hanno data a tavolino, perduta, cioè, c'erano tre mesi di tempo, penso che un giorno per fare una partita l'avrebbero trovata, comunque, anche questo è il ridicolo della UEFA, che coi sorteggi eccetera, si sono fatti riconoscere questa settimana, ragazzi, che vi dire, che vi devo dire, iscrivetevi, attivate la campanellina, ci vediamo domani, probabilmente dopo la Juve, faccio Roma e Juve, scusatemi, Roma, Atalanta e Bologna e Juve insieme, Atalanta, Roma, vabbè insomma, avete capito, quindi probabilmente il video uscirà domani sera, dopo cena, ancora, iscrivetevi, attivate la campanellina, qui sotto ci sono tutti i link, mi raccomando, forza e buon weekend, ci vediamo domani, ciao ragazzi!